Tutto pronto, partiti! Non brillantissima Valapai, veloce invece Mary Orpen, all'esterno c'è Magica Whipper, più a largo la punta di Vaccati insieme a quella di Sopran Spark, per linea interna e prova a recuperare Vaccati, che assaggia la frusta di Pier Antonio Convertino con Vaccati e Sopran Spark alle prese, insieme all'interno a Mary Orpen, Vaccati e Sopran Spark, poi Mary Orpen, poi prova a intervenire anche all'interno C'è anche Valapai, poi ancora Magdalene Love, Vaccati controlla al momento gli attacchi ripetuti di Sopran Spark, poi Mary Orpen, Valapai, Magdalene Love, Indian Paradise, Vaccati contro Sopran Spark, Vaccati che ha preso qualcosina di vantaggio su Sopran Spark, poi ancora Mary Orpen e Valapai, Vaccati che ha in netto vantaggio nel tratto ultimo, Vaccati su Sopran Spark, Vaccati, Sopran Spark, Mary Orpen Vincere il numero 1 di Vaccati, al secondo il 2 di Sopran Spark, per la terza il 5 di Mary Orpen, 1-2-5, si chiude così, giocato alla fine è Vaccati, scende la sua quota, giustamente direi, vince facile all'epilogo, Vaccati, Vincenzo Varchetta, Eugenio Goldin, Christian Bianchini ai colori, l'uno che vince, al secondo c'è il 2 di Sopran Spark, la favorita, e al terzo poi per la trio spunta il 5 di Mary Orpen, 1-2-5, l'arrivo numerico ufficioso per il momento è tutto, direi buona continuazione di serata, una buonanotte a tutti, l'appuntamento a sabato per il Criterium Varesino, il premio della novella, ringrazio, buonanotte.